salve ragazzi oggi una giornata molto importante non perché l'italia ha battuto la spagna perché noi del calcio non ce ne frega niente ma perché c'è la quinta giornata dei saldi steam e impiegheremo tempo qui invece che guardarci delle partite perché è molto più salutare quindi partiamo subito con terraria che ve l'avevo già accennato tempo fa è un video vecchio terraria è una specie di clone di minecraft soltanto con un diverso tipo di telecamera non è in prima persona ma è in due dimensioni e il gioco è super super giocato è ormai vecchiotto 5 euro non è un prezzo malaccio ma non lo vedo come il gioco da avere a tutti i costi anche perché secondo me questa tipologia di giochi così sandbox ha un po perso l'appeal andando avanti c'è the killing che si tratta di un altro titolo in early access una sorta di anger games giocato appunto in cui si è in un'arena si recuperano materiali e si uccidono persone su persone il concept è interessante anche se non originale ma il gioco è da poco in early access e spendere 12 euro e 74 per un gioco che non sa come andrà a finire anche perché i giochi in early access sono appunto un'incognita non non li ritengo una spesa molto molto intelligente anche perché 15 per cento di sconto circa 2 euro quindi alla fine non è che andate a perdere così tanto quindi questo è uno sconto abbastanza infimo che non vi consiglio universe sandbox 2 anche qui alla seconda sarebbe anche qui si tratta di un altro sandbox spaziale in questo caso un altro early access anche qui il prezzo abbastanza altino e lo sconto è soltanto del 20 per cento e in questo caso ci troviamo davanti un altro gioco che non consiglio non tanto per l'early access anche se in parte questo ma perché lo sconto è basso appunto e quindi 18 euro secondo me sono troppi di questo genere andiamo avanti con europa universalis 4 4 4 4 un gioco di paradox molto giocato anche questo uno strategico di quelli pesanti molto non c'è una componente gestionale c'è molta molta macro gestione e il gioco è decisamente interessante è uscito da tre anni ormai ci sono anche diverse modi insomma è super giocato su steam 9 euro 99 non è un prezzo molto male non sono sicuro se si trova a meno su altri altri siti però il prezzo appunto tenetelo sott'occhio perché se siete un amante se siete amanti di questi di giochi oppure se non avete il quarto capitolo di europa universalis ma siete fan della saga potreste approfittare di questo sconto del 75 per cento che non è affatto male poi c'è age of mythology extended edition anche qui si tratta di uno strategico basato su age of empires soltanto che ci sono le divinità le divinità greche egizie e nordiche uno strategico classico anche qui si raccolgono risorse si costruiscono edifici diverso dall'europa universalis 4 che abbiamo visto prima non si tratta di di uno dei migliori age of empires chiaramente però come vedete anche gli utenti è stato accolto abbastanza bene un metacritic di 66 non esaltante comunque il gioco non è tra i più riusciti della saga age of empires forse è meglio per qualche euro in più prendere il 3 e age of empires 3 che a mio parere l'ho giocato è decisamente più attraente di questo perché con il prezzo che c'è secondo me ci sono altri strategici più più ottimali shadow of mortar 2 prezzaccio anche se lo sconto è del 75 per cento si può trovare a molto meno su altri siti addirittura meno di metà prezzo rispetto a 12 euro e 49 il gioco merita molto ma non vi conviene prenderlo su steam appunto perché spendereste soldi inutilmente football manager 2016 il prezzo è alto anche perché si parte da 55 euro lo sconto non è male del 66 per cento ma comunque il prezzo rimane alto considerando che se non erro dovrebbe uscire a breve anche il 2017 quindi ci troviamo quasi a fine ciclo di football manager 2016 e non so se se conviene appunto accapararselo ora a 18 euro e comunque non sono bassissimi e poi questo gioco rimane molto molto dedicato ai amanti del calcio tiratemene fuori immediatamente e quindi non non è appetibile a tutti ma il prezzo come ho detto non è molto esaltante anche se penso che sia basso rapportato a quello su altri siti squad communicate coordinate con care non l'ho mai sentito lo vedo insieme con voi per la prima volta forse si tratta ad occhio e croce di uno di un fps tattico all'arma con i classici medi orientali da ammazzare non mi dice niente sinceramente non vedo peculiarità c'è già arma quindi non penso faccia meglio di arma vediamo cosa ne pensano gli utenti diciamo ha delle recensioni abbastanza per lo più positive il 75 per cento ma comunque si tratta un early access 27 euro c'è la saga di arma vorrei dire secondo me conviene puntare più su quella che su squad nonostante possa essere interessante non voglio anche multiplayer quindi no è un multiplayer da quello che vedo e quindi si basa appunto sul multiplayer rispetto ad arma vedete un po voi non lo considererei molto dato che il prezzo è comunque abbastanza altino 27 euro e 74 su 36 e 99 non è uno di quegli scontri di cui approfittare insomma mi balena davanti agli occhi rocket league il prezzo del 40 per cento sembrerebbe alto ma è venduto a prezzi abbastanza alti anche su altri siti di chi se non sbaglio anche a 10 euro comunque il prezzo non è male rocket league è appunto questo sportivo gioco di guida in cui si combatte sempre da virgolette si compete in arene e con l'obiettivo di portare la palla questa palla nella porta avversaria a bordo di queste macchinette super veloci e super agili e poi c'è anche la modalità basket in cui bisogna far canestro appunto il gioco è molto divertente ma vi consiglio di recuperarvelo con dei amici magari perché io ci ho giocato un po ci gioco ogni tanto con qualche amico e è divertente perché ci si insulta si festeggia quando si vince insomma è un gioco molto molto interessante poi ancora c'è life is danger già ve ne ho parlato dead rising franchise c'è il franchise di dead rising questa collector spack che 27 euro la lascerai perdere il dead rising 3 70% a 15 euro non mi sembra la scelta più ideale anche perché mi sembra che il 3 c'era dei problemi un po' di frame rate anche su pc il 2 già è un po' meglio con 5 euro e 69 ci sono solo il 2 e il 3 appunto e con questi dlc che poi sono super passabili diciamo sono dlc stupidi il 2 e 5 euro e 69 potrebbe essere interessante ma comunque non si tratta di un gioco che consiglierei qui non c'è molto da consigliare potrebbe esserci un robo universalis e rocket league ma del resto oggi non mi sembra che a parte south park del sick of truth che lo consiglio ma ne avevo già parlato 7 euro e 49 per un gioco appunto dell'obsidia molto interessante poi se star point gemini 2 questo mi sa tanto di un altro no questo non è un early access si tratta di un gioco di ruolo open world sempre spaziale quindi i temi sono sempre quelli vedo che gli utenti non l'hanno recensito molto positivamente quindi magari non sarà forse super recelso se ne vedo che ce ne sono altri esponenti in lizza il gioco a 7 euro e 99 ma comunque è uno di quei giochi che non conosco bene cioè lo sto vedendo adesso su pc ci sono ovviamente tanti giochi è una follia conoscerli tutti e quindi non è un consiglio che vi do andiamo avanti con the witness anche qui il prezzo è altino molto alto anzi il gioco è decisamente interessante si tratta di un puzzle game di jonathan blow che ha sviluppato anche braid un gioco molto di sostanza quindi con enigmi sempre più difficili alcuni difficilissimi lo sviluppatore ha detto che alcuni ci vorranno anni prima che saranno risolti il prezzo non è buono insomma 29 euro e 59 peccato perché il gioco è interessante ma il prezzo non è così appetibile poi che abbiamo? abbiamo Helldivers Helldivers si trova meno su altri negozi però il gioco rimane comunque interessante è una sorta di alienation però è uscito un po' più vecchiotto è un twin stick shooter che si può giocare fino a 4 in cooperativa se non erro vedendo qui si oppure 2 non ne ho idea comunque si può giocare fino a con più giocatori è divertente appunto con dei amici più che da soli questi giochi sono pensati per essere fruiti di un'esperienza multiplayer ok oggi brutta giornatina insomma non c'è niente di che scendiamo vediamo se c'è qualcosa di meglio ah c'è Armello Armello però è il prezzo altino Faster Than Light Faster Than Light questo prezzo non mi sembra assolutamente male per un gioco molto molto interessante anche se un po' vecchiotto si tratta di un un roguelike con le astronavi che c'è anche del gestionale si combatte contro dei nemici e poi si potenziano le armi della nostra astronave e ci si va proprio fisicamente si spegne il fuoco magari che è stato innescato da un colpo che ha fatto breccia nei nostri scudi poi si potenziano appunto le armi si migliora la nostra navicella insomma è un gioco molto interessante e peculiare che per 2 ore e 99 secondo me è molto molto allettante e poi oltre a Faster Than Light che è uno dei consigli c'è anche Dragon Age che si trova a 5 euro sono sicuro che forse si troverà a meno peccato perché è stato dato gratuitamente su Origin qua si parla di Dragon Age Origins uno dei giochi di ruolo più belli di Bioware se parliamo proprio di giochi di ruolo puro è il più bello di Bioware forse e poi sicuramente il migliore della saga Dragon Age quindi se non l'avete giocato recuperatelo anche per 5 euro non è male ma se guardate forse un po' in giro magari lo trovate anche a meno Tales of the Borders il prezzo è alto Last Remnant comunque abbastanza interessante un gioco di ruolo 5 euro Moon Hunters è un po' altino e passiamo ai consigli che mi erano stati dati mi hanno riferito dei consigli allora mi hanno detto che c'era c'erano i Dead Space in sconto allora ho guardato Dead Space 1 è conveniente su altri siti si trova a 1,20 euro circa mentre Dead Space 2 si trova sempre un po' poco meno ma considerando le tasse che si pagano su altri negozi è buono questo prezzo Dead Space 2 e poi c'è il Dead Space Pack se siete interessati che con 5 euro vi da tutti e due anche se cioè costo dei singoli prodotti 4,98 euro costo del pacchetto 4,99 euro insomma è un affare comprateli singoli non ha assolutamente senso questo pack quindi se siete interessati appunto prendete il 2 e l'1 lo prendete da altre parti non prendete questo pack perché è una fregatura e vi fottono un centesimo Gaben è un trollone e quindi potreste farci un pezzerino perché il prezzo è assolutamente conveniente un altro giochino che mi avevano segnalato era appunto DuckTales Remastered che sta a 4,61 euro anche qui si tratta di un remaster di un platform uscito molto tempo addietro il gioco comunque ha meccaniche piuttosto arcaiche però i platform invecchiano benissimo e quindi graficamente è anche bello le musiche sono fantastiche se siete interessati a un platform compro da questo zio paperone e tutti gli altri la combriccola di paperopoli il gioco potrebbe essere interessante in ultimo mi era stato detto che c'era anche To The Moon in sconto un gioco molto interessante a 1,59 euro To The Moon va preso insomma quindi si tratta di un un gioco fatto con RPG Maker dall'apparenza tecnicamente semplice ma ha una storia molto molto profonda e ha delle musiche fantastiche ragazzi quindi il gioco ha una sostanza incredibile non fatevi frenare dall'apparenza e per 1,59 euro subito di corsa quindi a parte questo ci diamo appuntamento a domani con la sesta giornata di Saldi Steam speriamo che in evidenza ci sia qualcosa di meglio o qualcosa che non abbiamo già analizzato ciao ciao ciao